Siamo arrivati alla fine di questo 2022. Desidero consigliarti di iniziare questo nuovo giorno all'insegna della gratitudine. Sei vivo, sei qui con noi e questo conta. Fino a che ci sei puoi fare tante azioni straordinarie in questo mondo. Pensa a quanto è bello che tu oggi sia qui. Di ciò che ti permette di dire oggi sono grato perché vai alla tua finestra o esci nel tuo giardino ed esprimi per cosa sei più grato oggi. Parto io. Oggi sono grato perché tu sei qui e stai vedendo questo video. Se sei iscritto alla mia newsletter del sabato, se segui i miei contenuti che pubblico quotidianamente su Instagram e sugli altri miei canali social, sei una persona che mira a migliorarsi ogni giorno. Uno dei miei grazi immensi li devo proprio a te. Il mondo ha davvero bisogno di tante persone come te e vorrei che te lo ricordassi per tutta la giornata di oggi e per i giorni a venire. Il mondo ha bisogno di te, di te che credi nella possibilità di cambiare davvero ciò che non ti soddisfa, di te che continui a mettercela tutta. Grazie che ci sei. Il mondo diventa un posto migliore con persone come te, che ogni giorno si mettono in gioco con sacrificio, con mille difficoltà per diventare il meglio che possono essere, impegnandosi con coraggio e determinazione in questa direzione. Grazie a te perché dai il massimo per applicare nel tuo quotidiano ciò che di nuovo impari, anche attraverso la condivisione e la visione dei miei contenuti ogni giorno. Se tu non fossi qui, tutto il mio impegno nel divulgare questi contenuti sarebbe vano. Il bello è che entrambi crediamo che è possibile cambiare a piccoli passi questo nostro mondo. Vedi, credo nel fatto che ognuno di noi è artefice del proprio destino, ma anche di quello di tutti gli altri. E nonostante gli ultimi anni che abbiamo attraversato, che sono stati abbastanza impegnativi, credo per tutti, guardandomi indietro voglio condividere con te la mia seconda gratitudine. In questo 2022 ho realizzato ben quattro grandi corsi e videocorsi per la tua crescita e evoluzione personale e tanti altri traguardi importanti. Raggiungi i tuoi obiettivi nel mese di gennaio e febbraio 2022. Gestisci i tuoi pensieri negativi nel mese di marzo e di aprile 2022. Nel mese di luglio mi sono sposata in Costa Smeralda in Sardegna e a fine agosto ho fondato la mia prima società, Crescita e Evoluzione SRL. Nel mese di settembre ho incontrato parte della nostra straordinaria community a Rattamitap, dove abbiamo fatto uno dei più bei aperitivi vista tramonto, su una terrazza davanti a Piazza del Popolo a Roma. Nel mese di ottobre 2022 ho realizzato il corso di public speaking, comunica con più sicurezza di fronte a qualsiasi pubblico. E infine il grande corso di comunicazione efficace nel mese di novembre 2022. Oltre a queste bellissime esperienze sono successe tante altre cose belle che saranno le prossime novità del 2023 e che poco a poco ti svelerò in anteprima, soprattutto se sei iscritto alla mia newsletter. Sono soddisfatta, grata e piena di energia per tutto questo. Ecco anche perché scelgo di fare tutto ciò che posso per infonderti questa forza, queste energie e trasmetterti ciò che può aiutarti nel tuo percorso di vita. Io nella mia vita ho dato tanto, così cerco di dare tanto anche alla tua. Se il 2022 non è stato il tuo anno, non c'è motivo per cui il 2023 non possa esserlo. Ricorda, c'è sempre tempo per lavorare su noi stessi. Questo è il periodo migliore per iniziare. Le persone che cercano la felicità cercano fondamentalmente dei modi migliori per migliorare la propria vita. Oggi vedo tanta confusione su come correggere lo squilibrio tra la paura di come vivere e l'incertezza che si è creata in questi ultimi anni, su come condurre uno stile di vita più sano, oppure ancora su come gestire le nostre relazioni e conflitti con gli altri, su come sentirsi più sicuri, come liberarsi dalle cattive abitudini e andare avanti nonostante il mondo che cambia alla velocità della luce. Dato che non è semplice, avere una guida, un mentor, un supporto adeguato è ciò che può aiutarti ad aggiustare la rotta nonostante tutto e tutti. Nell'augurarti un buon inizio 2023, ecco allora per te 4 consigli di crescita personale da ricordarti nel tuo nuovo anno. 1. Usa il passato per migliorarti, ma non perderti in esso. Scegli di rimanere nel presente. Se sei inclin alla rimuginazione, al pensiero negativo su ciò che è già stato e all'autosvalutazione, il passato potrebbe essere la tua seconda realtà, piuttosto che il pozzo di conoscenza a cui puoi tornarvi solo di tanto in tanto. Impara a tenere entrambi i piedi nel presente e rivolgiti al passato solo quando necessario. Il passato deve essere appreso e utilizzato per aiutarti a guidarti verso le tue nuove azioni nel presente. Il passato non deve essere una fonte di colpevolizzazione costante in cui sprofondare. Identificarti eccessivamente con gli errori del passato o con le versioni passate di te stesso ti impedisce di evolvere nel presente. Usa il dolore delle difficoltà precedenti come un promemoria per aggiustare la tua rotta, ma smetti di identificarti con loro. 2. Il futuro non è mai certo. Questo direi che negli ultimi anni lo abbiamo imparato bene. Proprio come il passato non dovrebbe mai essere utilizzato come strumento per la nostra realtà odierna, allo stesso modo il nostro futuro dovrebbe essere pensato solo quando ne abbiamo veramente bisogno. Ad esempio pensando ai nostri buoni propositi, agli obiettivi futuri, ma non per anticipare mentalmente catastrofi o aumentare le nostre ansie, paure e tensioni. Tieni sempre conto che il nostro futuro, sì, è selvaggiamente incerto, ma ci sono le tue azioni concrete che possono cambiare le situazioni che non ti piacciono o che non ti fanno stare bene. Accetta che ognuno di noi sta vivendo nell'incertezza la propria vita. Quando cerchiamo di controllare il nostro mondo esterno, perdiamo totalmente il contatto con quello interno. Rinuncia allora al controllo estremo. Il presente è tutto ciò che hai veramente. Goditelo per qualunque cosa porti. Non perderti nel futuro. Tutto ciò che hai è il momento presente. Sfruttalo al meglio e prendi le situazioni che ti capitano come occasione di apprendimento. 3. La comunicazione efficace è la tua migliore alleata. Se segui i miei contenuti sai quanto tengo la comunicazione efficace. Se vuoi vivere meglio, devi impararla. Non ci sono scorciatoie, non ci sono scose. Rimboccati le maniche e imparala. La tua vita cambia se cambi la qualità delle tue parole e del modo in cui comunichi con gli altri ma soprattutto con te stesso. Impara a mettere dei sani confini relazionali nelle tue relazioni con gli altri. Diventa in grado di impostare dei confini appropriati e comunicali apertamente in modo efficace a chi ti circonda. Avere il coraggio di stabilire dei limiti all'invadenza di chi ti circonda significa avere il coraggio di amare noi stessi anche quando rischiamo di deludere gli altri. L'importante è impegnarsi ogni giorno e non deludere mai noi stessi. I confini sono centrati sul rispetto di te. Si tratta di sapere cosa fa bene al tuo benessere e di non accontentarti di niente di meno. Nell'essere senza confini rischiamo di essere troppo sottomessi, passivi e di abbandonarci a noi stessi. Non c'è mai un buon momento per iniziare a stabilire dei limiti quindi inizia a chiarire cosa vuoi e come desideri essere trattato dagli altri già oggi. 4. Prendi nota del tuo intuito è qui per aiutarti. Quando ho aperto la mia newsletter, i miei canali social, la mia attività, per la prima volta circa 12 anni fa non ero del tutto a conoscenza di come si sarebbero evolute le cose. Ero solo sicura del mio perché, ovvero del motivo per cui sentivo il bisogno di farlo. Aiutare più persone possibili a migliorare le proprie vite grazie al potere della conoscenza di ciò che avevo studiato in psicologia e che aveva già letteralmente cambiato la mia vita. Questo era il mio perché. Questa direzione si è poi nel tempo rivelata la strada per me vincente. Ma all'inizio io non lo sapevo. Negli anni ho dovuto sopportare critiche di persone che non credevano in me e che mi dicevano che facendo video online avrei compromesso la carriera professionale banalizzando la mia professione. Nel tempo, con più consapevolezza, ho capito che era la mia intuizione dettata dal mio bisogno più profondo di aiutare gli altri a guidarmi a fare la differenza. E non mi interessava di chi diceva di volare basso. Volevo aiutare di più le persone in modo nuovo, intimo, diretto, sentendomi pienamente libera a mio agio nel farlo. E tutto questo che ho fatto, che ho realizzato, è perfettamente allineato con la mia persona. Guardando indietro la mia infanzia, sono sempre cresciuta fuori dal comune. Nata e cresciuta da due genitori, entrambi psicologi e psicoterapeuti, ho scoperto negli anni di avere un alto potenziale cognitivo e una grande creatività. Fin da piccola amavo leggere, scrivere, comunicare, aiutare gli altri, investire nella mia conoscenza. Ciò che voglio dirti è che il nostro intuito, sebbene incline ai difetti, proprio come lo è il nostro pensiero cosciente e razionale, conserva dei segreti di cui potremmo non essere subito consapevoli alla superficie della nostra mente. Nel nuovo anno inizi a prendere consapevolezza di ciò che vorresti fare e che potresti sfruttare appieno nella tua vita, riscoprendo il tuo intuito e il tuo perché. Molto prima che iniziassi a fare i miei primi video sul canale YouTube, avevo già la profonda sensazione che dovevo muovermi in questa direzione. Ora, puoi chiamarla come vuoi, io la chiamo intuizione, sapendo che ero in una situazione che mi spingeva a desiderare ardentemente di farlo. Anche tu puoi. Chiediti cos'è che voglio veramente, cos'è che devo cambiare, quale vecchia passione ho dimenticato, che cos'è che mi serve, che cos'è che non mi serve più, quali cose smetterò di fare nel nuovo anno. Perché attenzione, non è solo importante sapere ciò che vogliamo, ma anche tutto quello che non vogliamo più. A volte cerchiamo risposte all'esterno, quando in realtà si trovano all'interno di noi. E dentro di te ci sono delle risorse incredibili che sta a te tirare fuori. Prenditi un momento per riflettere su tutti questi punti di cui ti ho parlato in questo video e scrivi su carta i tuoi prossimi passi e i tuoi prossimi obiettivi. E mentre li scrivi, non pensare solo a ciò che è già stato, ovvero ai tuoi ieri. Perché non puoi avere un domani migliore se continui a pensare a ieri. Non puoi ritrovarti andando e restando con la mente solo nel tuo passato. Puoi ritrovare te stesso entrando e restando nel presente. Prendi per mano il tuo bambino interiore e portalo nel tuo presente, lasciando che lui ti insegni come si fa a credere ancora nei sogni, nell'aiuto e nell'amore. Rimani poi in contatto soprattutto con la parte adulta di te, ricordando che con gentilezza, con un buon piano di azione e con la tua determinazione e passione, puoi veramente raggiungere ciò che per te conta di più. Oggi ti saluto con questa riflessione. Quando una porta della felicità si chiude, un'altra si apre. Spesso guardiamo così a lungo la porta chiusa che non vediamo quella che è stata aperta per noi. La tua vita non sarà mai migliore se non ti occupi dei tuoi progetti e delle azioni che compi ogni giorno. Sei tu l'architetto e il costruttore della tua vita, dei tuoi successi e del tuo destino. Allora rendi la tua vita il tuo più bel capolavoro. Che sia per te un 2023 meraviglioso, con l'impegno che tu sai metterci, con l'autenticità e la passione che ti contraddistingue, con l'augurio che tu possa raggiungere ciò che conta davvero per te. Avanti tutta!